Ciao a tutti ragazzi, qui c'è un nuovo video, in questo video parlerò di Lava Land che è uscita il 13 luglio e questa matta è molto semplice e è dalle nazioni e ci sono dei blocchi blu e tu devi far parkour su tutti quelli e intanto sale la lava poi hanno aggiunto pure delle nuove schimmie che sono che sono, allora una ce l'ho già che è questa e la usiamo subito e le altre sono, allora le altre sono questa che è un altro stile di quella che ho poi questo, molto bello, queste skin sono molto antiche poi questo è il secondo stile poi questo è una skin con la pelliccia di orso sota poi questa è Nyx che sembra tipo una dea romana e greca uguale questa, Athena e poi basta, leggendarie mi sembra che ce n'è una no, non hanno aggiunto leggendari e neanche speciali quindi adesso iniziamo a fare delle partite e speriamo che becchiamo Lava Land ok, si inizia prima partita vediamo ok, ehi sì allora, si inizia questa skin l'ho trovata ieri ciao ehi, vai, si inizia no, no, no ok questi sono fortini, dai se la cavano no non ci voglio credere no ok ok sì 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 sedicesimo sedicesimo non ho fatto ok sedicesimo ok va bene, va bene ho rischiato, è un po' laggata però va bene dai, dai, dai vediamo speriamo che passiamo vediamo, vediamo, vediamo oh ah, sono fuori con dei miei mici ecco perché stanno parlando fra di loro ok pivot flash va bene, va bene pivot flash chi sta? eh un attimo finisco la partita allora ok non so arrivo non startare adesso sto in una in un gruppo di un amico non so se mi qualifico faccio il trick non è un trick vabbè è un bug di cos'è dove lo vedi che sta registrando? no dove lo vedi che sta registrando? io lo fai quindi se leggi dai no, no vabbè vabbè ho il gruppo vedi che la vinco io allora allora no dai vai Fede adesso facciamo il gruppo è un attimo un attimo allora adesso facciamo un'altra partita speriamo che andiamo in finale per beccare la valende gruppo gruppo 46 0 46 ok ci siamo ci siamo ci siamo vediamo vediamo vai starta ok l'ho tratta ieri nei giri fortunati quelli gratis ovviamente speriamo che andiamo in finale così speriamo che becchiamo la valende che ne ho appena parlato prima che è uscita dai rega dai prima era un fortino solo che io non mi sono impegnato tanto perché volevo giocare con il mio amico Fede quindi non volevo qualificarmi però era un forte era veramente forte vediamo no rega mi sono incastrata no ma scomparso subito ma ma cosa va bene no ho fatto male ok è passato prima di me ho laggato eh qua un po' si lagga no non riesco vabbè 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 tanto che si mi chiede speriamo che mi qualifico vediamo ok yes 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 mi qualifico no no mi voglio mettere sulla torre vabbè tanto che mi sono qualificato ma so che sei dietro lì oh stanno arrivando stanno arrivando oh secondo vabbè un po' l'ho trollata ma donno quanti stanno arrivando mi manca una vabbè vabbè dai quanto manca vediamo qualcuno qualche bot ok andiamo ok si è qualificato il militare per lui seconda fase non so un fortissimo che si si vede che sono bot rega a 100 iscritti mi farò faccio un video dove mi faccio vedere la faccia invece il primo iscritto che si iscrive al canale gli faccio un video singolo per lui se mi iscrivo io prima con il mio cellulare non mi conto conto il primo che non conosco l'ho fatta malissimo ok chi sta tirag tirag con i soldi dietro madonna ok ci vuole ci vuole in finale dai 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 poi in estate farò pochi video però li faccio alcuni un po' li farò molto quando finirà l'estate iscrivetevi al canale e lasciate un bel like ovviamente ah e nei commenti se volete se volete che io faccia un gioco che volete voi scrivete nei commenti il gioco e da che piattaforma è lo scarico e così faccio un video speciale per quello ok no ho sbagliato dai che faccio la win facciamo ciao yes vittoria 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 però non abbiamo beccato la valentine facciamo un'ultima partita e poi stende ok seconda partita 12.55 12.55 3 aspetta pronta aspettiamo 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 un attimo il mio amico più secondi e startiamo vabbè dai rega dai rega o prima win ci sta però non dobbiamo trovare la valenda vai 12 12.55 3 io sono bravo in lo stampo l'hai iniziata a imparare aspettiamo un attimo va a bere il mio amico due secondi nanananana andiamo quanta di reg 11 minuti di reg avete visto anche voi 11 minuti di reg e scaricati twitch perchè io ho un canale twitch e mi chiamo frbbo il nome lo cambierò fra un mezzo e mezzo perchè l'ho scaricato da poco e faccio alcune volte le live quando voglio e faccio le live però farò le live forse anche su non porterò solo su scambol guys ma anche forno con guys e altri giochi quelli che volete voi quindi ragazzi iniziamo la partita guardami avvia hai fatto qualcosa? no stai fermo? va bene ma se non c'è giocare così io passo no vabbè si inizia si inizia la partita io voglio trovare l'avaland vai io vinto prima va via vabbè vediamo cos'è ok pivot brush vediamo se sono bot non penso no si quando non partono sono bot ma va ma in verità sta venendo perchè i soldi sono verdi e la schiena verde è vero è tipo un narciere si ma qua c'è c'è un bug e questo bug madonna c'è sto bug e poi non so come chiamarlo penso che sia un trick però ma come mi ero bloccato stavo per cadere lo faccio quasi sempre però mi viene sempre giusto ma qua stavo veramente per se ne pare ma questi vanno dritti cioè questo qua va dritto ma ok io spero facciamo un'ultima partita e poi stacco vediamo ok humble stumble humble stumble ci sta per me questa è la prima monsposte hanno creato perchè è humble stumble quindi quindi vabbè simile al nome mister stumble la schiena verde ok no sono caduto vabbè guarda il stile il stile il stile io non faccio i primi otto sennò dopo perde ragazzi così non si avrà le mani vabbè guarda cosa fa il tuo guarda cosa sta facendo il mio vabbè ma guarda che vuole guarda guarda vabbè sono bot lo sappiamo stambul va bene non si è attaccato qua oh il maghetto con calma ma vai tranne qua no ma raga io voglio giocare però adesso si qualifica no veramente no oh ha fatto il doppio salto no si è trasformato in gold mad entrati in gold no si vede si vede ma cos'è sta roba è scarcissimo ok ok speriamo che la becchiamo lava land dai 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 vediamo si si lava land l'ho chiamata l'ho chiamata io non ho mai vinto perchè qua i botte sono forti perchè devono solo saltare wow o uno è già giusto vabbè grazie ero un istambul guy vabbè ma alcuni se la giocano istambul ce n'è una guerrita che ho dovuto spingerlo per ucciderlo sto laggando ah no ah no non muovevo Nico fammi vincere fammi arrivare al settantesimo vittorio oddio oh meno spinto di meno spinto di no eh ma madonna come si si è morto eh sono morto ma quindi sei morto non è vero no sono morto vabbè ma ma ci sono i bots che mi spingono vediamo chi vince chi ha vinto vabbè il video finisce qua spero che il video vi è piaciuto e alla fine la valenda l'abbiamo beccato quindi rega ciao ciao